Grazie al professore Moccia e all'INU che ha voluto organizzare a Napoli il Festival delle Città Metropolitane. Questo è un aspetto molto importante perché la terza città d'Italia, la città metropolitana di Napoli, in questo momento è strategicamente importante sul piano nazionale, anche perché viene definita una delle poche vere città metropolitane. Proprio per territorio, per formazione, per abitanti e per importanza strategica. E quindi grazie all'INU. Mentre se andiamo sul tema del piano strategico, la settimana scorsa ho presentato in quanto delegato all'Ubanistica una proposta di delibera per lo start-up del piano strategico, ovvero quella fase iniziale in cui attraverso i forum e le commissioni si costruisce quel rapporto con tutta la società civile, nel mondo delle professioni e le parti sociali, tutti coloro che vorranno dare una mano e partecipare alla costruzione, credo dal dopoguerra oggi, del più grande piano strategico per il nostro territorio. In più all'interno della delibera un pool di esperti del settore ha costruito insieme a me un documento di indirizzo, c'è una traccia da cui partire in cui si deliniano alcuni possibili indirizzi, anche perché sappiamo che la fase di costruzione è lunga, dura circa un anno, e poi dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio metropolitano. La parte che ritengo più importante è quella delle zone emogenee. Noi indichiamo inizialmente, poi vedremo nella fase di dibattito e di confronto cosa emergerà, che le zone emogenee della provincia possono corrispondere ai sistemi territoriali di sviluppo già rodati in Regione Campania. Per quanto riguarda Napoli la possibilità di dividerla in cinque grandi municipi che potrebbero risolvere dal punto di vista della burocrazia una serie di problemi, ma anche questo è uno dei dibattiti accesi in città e in provincia su quale sarà il futuro del Comune di Napoli all'interno della città metropolitana.